In ogni difficoltà, soprattutto nelle difficoltà economiche e di mancanza di lavoro o di presenza di debiti, impariamo a conoscere questo grande santo. Sangha e Ranno da Tiene è il santo che il Signore ha messo nella nostra vita per invocare la provvidenza. Infiniti sono i miracoli. Che testimoniano che da quando Sangha e Ranno entra nella vita delle famiglie, il pane sulla tavola non è mai mancato. Impariamo a invocare e a chiedere la provvidenza del Signore, perché nei momenti in cui siamo più disperati, dobbiamo ricordare che la provvidenza, l'aiuto del Signore, arriva sempre. E Sangha e Ranno non lascia nessuno senza aiuto. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. O gloriosissimo Sangha e Ranno, tu che pensando ai peccati del mondo ne provassi tanto dolore fino a morirne, imperami dal Signore il dolore delle mie colpe e la grazia di non ricadervi mai più. E poiché la schiera dei fedeli ti chiama il Santo della provvidenza, il Tesoriere delle grazie, il Consolatore d'ogni afflitto, ottianimi la provvidenza. Assistimi e consolami in ogni necessità. Sangha e Ranno, guarda la mia situazione personale. Aiutami nel lavoro, nella famiglia. Aiutami a pagare tutti i miei debiti. Aiutami in ogni necessità, affinché nella mia famiglia e nella mia vita non manchi mai il pane sulla tavola e il sostentamento per la nostra vita. Ti prego, Sangha e Ranno, metti sotto la tua particolare protezione la mia famiglia. Ottieni dal Buon Padre Celeste la grazia necessaria alla serenità, lo stretto legame affettivo, il senso dell'onestà. e nel dovere. Affidala alla tutela della Vergine Maria che nella notte di Natale ti pose fra le braccia il suo Figlio Divino perché vi conservi la benedicente presenza di Lui. Fa che tutti nella nostra famiglia operiamo tanto bene allontaniamo ogni male che attenti alla salute del nostro corpo e del nostro spirito. Tutti abbiamo sempre l'impegno e la forza di affrontare e superare le difficoltà grazie alla tua presenza. non manchi mai con il pane quotidiano la perfetta armonia che il vincolo d'amore che ci unisce qui in terra si perfezioni nell'eterno amore affinché tutti possiamo insieme essere salvi e raggiungere il cielo. Da questa valle di miserie a voi ricorro nelle mie necessità o glorioso Patriarca San Gaetano giacché sembra che il sommi Dio abbia affidato a voi lo speciale incarico di tesoriere delle sue grazie. Voi che tutto il mondo ha ricevuto la vostra parola sulla provvidenza ottenetemi una vera e piena confidenza all'Altissimo a ciò che io staccato dalle cose del mondo riceva ogni aiuto materiale spirituale che serva alla mia vita. Voi che per le vostre singolari virtù godete i favori del cielo illuminate la mia mente affinché come voi io posso conseguire la salute dell'anima mia e poiché voi siete il tesoriere di tante grazie di tutte le grazie oggi in questo santo giorno nel giorno della vostra festa donatemi la grazia che tanto desidero e di cui io ho tanto bisogno chiedere la grazia a San Gaetano o glorioso San Gaetano in voi ripongo tutta la mia fiducia e perciò fate che per vostra intercessione anch'io sia consolato e voi siete sempre lodato in tutto il mondo e la vostra gloria risuoni sulle mie labbra e sulle labbra di tutti nei secoli dei secoli così sia gloria al Padre al Figlio e allo Spirito Santo come era in principio ora e sempre nei secoli dei secoli Amen San Gaetano da tiene prega per noi e mandaci la providenza di Dio nel nome del Padre del Figlio e dello Spirito Santo Amen